Eccola di nuovo, la vecchia amica grigiorossa. Tutti in carrozza, si riparte per il girone di ritorno, si riparte da una posizione che, per scimmiotare un'esilarante invenzione verbale di Garzia, è al 100% positiva a metà. Positiva perché si è quasi ricucito lo strappo delle prime partite, ma positiva a metà perché le ultime due trasferte hanno rallentato l'avvicinamento alla terra promessa. Nel gioco del pallone ci sono tanti tipi di falli, ci sono i fallacci e ci sono i falletti. Di fallacci la Cremo ultimamente ne ha subiti due, ma ha poco da lamentarsi perché se li è fatti da sola. A Piacenza e a Palermo la Cremo si è falciata da sola, un vizio da perdere di corsa, perché i cartellini conseguenti non te li sventola l'arbitro, ma la classifica, che è molto peggio. E allora basta con i fallacci, proviamo invece con i falletti, per la precisione con Cesar Alejandro Falletti dos Santos, per gli amici e per chi ha il fiato corto, Cesar Falletti. Un uguaggio dal sinistro fantasy che è già, come si dice, a disposizione di Stroppa. È lui il primo frutto non virtuale del mercato grigiorosso e diventa d'ufficio la prima attrazione per quando alle 4 e un quarto della tarde si riapre il sipario del teatro di via Persico 19. L'antagonista è il Cosenza, che è la squadra di Caserta, ma speriamo che questo equivoco rimanga l'unico che i lupi della Silla riusciranno a proporre ai nostri eroi. Caserta per ora dal mercato ha ottenuto il ritorno del difensore camporese e spera di fare in tempo ad avere fra botta. Forse cambierà anche modulo, ma la Cremo, più che sugli avversari, deve vederci chiaro su se stessa. Bisognerà riaggiustare il tiro in trasferta, ma adesso ripartiamo dal ritrovato feeling con Lozzini, dove si sono vinte le ultime quattro partite con 9 gol a 0. Oltre ai lungodegenti manca Pickel, partito per la campagna d'Africa. Io mi aspetto di tutto dalla vita, ma di sentire nostalgia per Pickel e per il suo attivismo anarchico non me aspettavo proprio. Il fatto è che questa Cremo ha bisogno di corsa in mezzo al campo, anche per potersi permettere le lune altallenanti di Franco Vasquez. Poi certo si aspetta che torni a timbrare il cartellino il leader massimo, il quale da due mesi non riesce a fare un gol senza che gli arbitri trovino qualcosa da ridire. Dai che il capotreno fischia, tutti in carrozza che si riparte, sarà una specie di viaggio in transiberiana, con 19 fermate e già alla prima c'è un freddo da lupi. Ma se riusciamo a perdere meno coincidenze che all'andata, ci si può arrivare sul serio, alla stazione della terra promessa.